Grazie al professore Becucci che è stato nei tempi, grazie per averci spiegato tutte queste complesse dinamiche che poi fanno parte della nostra realtà economica. Abbiamo capito, grazie ai laboratori cinesi, che c'è un sistema che fa pressione sull'economia perché l'impresa che noi potremmo sequestrare e confiscare si ricrei e rinasca sotto altre forme e questo è stato a mio avviso per noi che siamo qui a discutere di queste questioni il passaggio più drammatico della sua relazione. Questo significa che possiamo continuare a lavorare all'infinito se non si risolvono i dati di contesto che fanno da levatrice all'impresa se non già illecita potenzialmente idonea a diventarlo. Certo, poi dobbiamo discutere della linea della Palma e dobbiamo pensare che fuori di qua è tutto diverso. Insomma, se lo dice il professore Becucci che è stato a Chicago a sopportare 20 gradi sotto zero che si sta meglio anche fuori nonostante queste condizioni, vuol dire che potremmo stare messi abbastanza male. Quindi a questo punto passiamo la parola al professore Antonio Purpura che è direttore del Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali e Statistiche dell'Università di Palermo al quale abbiamo chiesto di spiegarci quali possono essere le condizioni di sopravvivenza e di crescita delle imprese sequestrate e confiscate nei settori in cui solitamente operano queste imprese. Vediamo adesso, dopo aver descritto le condizioni generali del mercato, come può essere calata l'esperienza dell'impresa sequestrata e confiscata, non nel mercato raccontato nelle favole, ma nel mercato reale. Grazie, io ho fatto il compitino perché quando Provenziano mi ha detto che deve fare un intervento, ho preparato le tabelline, ho utilizzato parecchio i dati perché del tema non mi era occupato in passato al di là dell'interesse generale, con approfondimento, i dati dell'ultima relazione dell'agenzia e quelle del PON Sicurezza 2007-2013 pubblicato da Transcribe, per cercare di dare un fondamento empirico ad una serie di considerazioni sulle quali avevo in qualche modo riflettuto anche chiacchierando con Carmelo. Io credo che, da una considerazione che credo sia abbastanza condivisa da magistrati e anche da esperti di diversa natura, che l'impresa mafiosa nelle sue diverse declinazioni, c'è l'impresa subordinata, l'impresa partecipata, l'impresa collusa, l'impresa mafiosa, è un'impresa speciale, speciale significa che ha una combinazione di fattori produttivi, ha modelli organizzativi e sviluppa comportamenti strategici che sono affatto specifici, perché se così non fosse non sarebbe quella che è e quindi non andrebbe a finire poi nelle maglie della giustizia. Questa specialità, questa è l'ipotesi che io ho cercato, ho provato a documentare, che è anche poi, a mio avviso, anche delle precise implicazioni di polisi, questa specificità è fortemente radicata con le specificità dei settori nei quali le imprese mafiosa entrano e con le specificità dei contesti territoriali nei quali l'impresa mafiosa si localizza. In buona sostanza queste imprese declinano le caratteristiche proprie delle strutture, dei modelli di funzionamento dei settori produttivi, industriali non evidentemente, e le condizioni di territori, in maniera tale che le combinano, da dare luogo, delle combinazioni sistemiche aziendali che sono affatto specifiche e ne fanno appunto l'impresa mafiosa con le caratteristiche che si ha. Ed è un'impresa quindi che questo ragionamento a me mi verrà interessante perché è una premessa corretta dal punto di vista metodologico per capire poi come fare, se conviene, come fare per riportare queste imprese atipiche perché hanno, come dire, radicato in maniera originale, Arlacchi mi pare le definiva schumpeteriana da questo punto di vista, in maniera originale gli elementi di contesto settoriale, gli elementi di contesto territoriale, facendo un'entità a sé che poi spetta ai magistrati, ai miei sottori giudiziari e agli altri a provare a farla rigenerare e farla diventare un'azienda legale che opera nel mercato, è un'opera, capisco, che è assolutamente difficile da fare. Perché nei settori, nei territori, le imprese, nel momento in cui nascono ed entrano, entrano con la propria funzione obiettivo, che non è esattamente quella dell'impresa legale, talvolta coincide, in alcuni settori coincide, con la massimizzazione dei profitti, talvolta la funzione di utilità delle imprese o degli imprenditori che entriano in questi settori o che fanno appunto e credenziano queste imprese, è una funzione a più variabili, c'è il consenso sociale, c'è il controllo del territorio, c'è l'acquisizione di uno standing, come dire, esterno, c'è una funzione complessa rispetto alla quale, in alcuni casi, massimizzare i profitti non è esattamente quello che l'impresa cerca, ma si rifà, per così dire, su altre variabili che sono le più importanti. La specificità nasce tipicamente di queste imprese dal capitale sociale, dal capitale di rischio, che normalmente è un capitale che poi viene da attività illecite, nasce dai modelli manageriali, dai modelli di comportamento, dai modelli come queste imprese interpretano le regole di competizione nel mercato e quindi anche dalle strategie. La seconda parte della relazione farà vedere una serie di dati tratte da questo documento ufficiale che consentono di misurare il fenomeno e i limiti in cui questo è possibile con i dati a disposizione, ma la terza parte vi propongo qualche considerazione, come dire, un impegno di ricerca, ha detto il cammino altra volta, mi sembra estremamente interessante collaborare con questo gruppo di giovani ricercatori di Enna, perché il tema merita di essere la funzione dell'economista dei settori produttivi, certamente sviluppato. Ecco, in linea generale ogni settore ha una serie di condizioni, quello che noi insegniamo nei corsi di economia dei settori come industriali, ha condizioni di entrata, in alcuni settori l'entrata è facile, l'altro non lo è, in alcuni settori l'entrata è vincolata da fattori di tipo istituzionale, in altri da fattori di tipo tecnologico, finanziario, le condizioni tecnologiche, non tutti i settori adottano le stesse tecnologie, in alcuni settori le tecnologie sono complesse, richiedono processi di learning e di apprendimento molto lunghi, in altri invece le tecnologie sono facilmente abbordabili, le strategie competitive, cioè per vincere in un settore ci vogliono certe strategie che non sono esattamente le stesse e non sono replicabili in altri settori, banalmente, microelettronica, auto, abbigliamento, alimentare, i settori della distribuzione sono un settore completamente diversi sotto queste tre, quattro condizioni e i tassi attesi di profitto sono differenti, i territori non sono omogenei, scopo all'acqua calda, hanno livelli di sicurezza e di incertezza delle relazioni economiche differenziate, hanno gradi di sviluppo di sistema produttivo e dimensione delle relazioni impersonali di mercato differenti, dico le relazioni governate dalle relazioni di mercato sono di quelle in cui i soggetti non possono influenzarle, se le influenzano l'attività legale diventa materia per le professori Petruzzella e per l'antitrust, ma in alcuni casi questo accade, hanno un'apertura internazionale, hanno contesti istituzionali, cioè insieme di regole formali e informali che possono essere favorevoli piuttosto che no allo sviluppo delle imprese, hanno un peso del pubblico in termini sia di domanda pubblica, in molti territori la domanda pubblica diventa prevalente in rapporto agli sbocchi di mercato delle imprese e il modo come si vende al pubblico, anche qui scopo all'acqua calda, non è esattamente lo stesso in cui si vende un prodotto che va sul mercato e competere con gli altri, le logiche di vendita, le politiche di marketing per un'azienda che vive di commesse pubbliche in tutti i settori sono nettamente diversi rispetto a quelle di un'impresa che va sul mercato e deve convincere la singola massaglia, il singolo consumatore a comprare il vestito o la mozzarella oppure la bottiglia di vino e il livello di infrastrutturazione. Allora, la mia convinzione è che l'impresa che entra, l'impresa mafiosa che entra nel mercato ricombina queste condizioni, le contestualizza, le condizioni, sceglie i settori che sono più vicini, ai propri interessi, sceglie i territori e va nei territori che sono più isomorfici ai propri interessi e costruisce questo mostro atipico che è l'impresa mafiosa nei suoi diversi gradi che la letteratura sociologica ci ha fornito, quella che è dipendente, che subisce, quella che è partecipata perché ricicla il capitale, quella che è collusa e così via. Allora, vediamo quali sono i dati molto velocemente aggiornati, alcuni al 2012, alcuni sono all'agenzia del 2012, altri sono al 2013, molto velocemente perché altrimenti i 20 minuti saltano e gli esami di mio figlio possono andare, come dire, in crisi. Il fenomeno ovviamente è concentrato nel numero delle imprese totale in Sicilia e in Campania ma con una presenza significativa anche in Lombardia in termini di numeri e il blocco delle aziende che sono già uscite dalla gestione non supera il 30%, le aziende che sono ancora in gestione ma con diverse posizionamenti, come vedremo, sono vicine al 70-71%. Interessante notare, ma è il dato che emergeva questa mattina anche nell'intervento della dottoressa Saguto confrontando Palermo con Milano, non sorprende il fatto che a Milano siano uscite dalla gestione 54 imprese con le formule anche previste dalla normativa, dall'affitto oneroso, affitto gratuito e così via, perché il contesto è diversamente ricettivo rispetto ai percorsi di risanamento delle imprese e andare nel mercato. In Sicilia invece la percentuale sta attorno al 13-16% perché sconta vincoli oggettivi, non è un problema né degli amministratori né anche delle magistrate, è difficile, diceva stamattina, se è stato dovuto riportare le imprese sul mercato perché sono una serie di elementi di contesto che partono dal pubblico, dal privato, dal tessuto produttivo che rende questa operazione veramente difficile. In realtà dove i tessuti produttivi sono assolutamente più ricchi e più densi il percorso può essere più fatto. Delle aziende uscite, quelle vendute, quelle che verosimilmente hanno avuto successo il percorso di rigenerazione al mercato non superi il 10% in tutta Italia e quelle che sono in gestione, quelle che si candidano alla vendita o all'affitto oneroso non superano ancora il 4%. Quindi per così dire i dati ci dicono che il tentativo su dati nazionali di rigenerare le imprese mafiose nelle diverse declinazioni e riportarle al mercato fino ad oggi non ha dato grandi risultati, anche se territorialmente sono certamente disomogenei. Ma perché bisogna di vincoli oggettivi e quello accorre per interne atto, probabilmente occorrerà pensare, ed è un'ipotesi da approfondire ulteriormente, non ho nessuna indicazione in merito oggi, pensare se e come valutare i casi in cui occorre andare avanti e provare a rigenerare l'impresa e riportarla sul mercato nell'area dell'economia legale, nei casi in cui invece occorre adottare una logica più liquidatoria, vendere la spezzatina e utilizzare le risorse in maniera più funzionale per altri fini, anche fini di sviluppo economico sostanzialmente, i dati provinciali ci interessano poco, i dati settoriali, la distribuzione settoriale delle 1700 rotti imprese che sono state confiscate, ci dice che i settori come dire in termini di numero, ma il dato va affinato ulteriormente, vede l'industria delle costruzioni e la sua declinazione privata e pubblica in testa, poi il commercio, gli alberghi e i ristoranti, l'attività immobiliare eccetera. Ancora, se verifichiamo una sorta di intensità dei imprese di attrattività dei settori per gli interessi mafiosi, rapportando le aziende confiscate al totale delle aziende, per ogni 10.000 imprese registrate, quindi quante aziende confiscate nel settore alimentare ho rispetto al totale delle aziende alimentari in Italia, questo mi esprime una sorta di attrattività del settore, mi dice come quel remixaggio di fattori settoriali, di fattori territoriali risulta attraente per l'impresa, agibile per creare queste mostruosità di imprese così. Allora, noi ci vediamo che i settori più attraenti sono l'industria dell'estrazione dei minerali, l'industria della sanità, l'industria delle costruzioni, gli alberghi e la fornitura. Qui i rapporti mettono in evidenza un aspetto importante, molto dell'eolico è in odore di mafia e ancora in gestazione, immagino, quindi le aziende confiscate, si leggeva nel rapporto dell'agenzia, delle aziende confiscate del settore eolico o comunque del fotovoltaico o del nuovo dell'energia verde, ancora come dire sono in fase di osservazione, quindi il dato probabilmente che risulta esposto ad oggi è molto sottodimensionato rispetto a quello che potrebbe essere realtà, ma da che ragioniamo su questo. Questa tabella ci dice invece quali sono l'indice di specializzazione settoriale di mafiosità, mettiamola così, si rapportano le imprese confiscate in un settore sul totale delle imprese confiscate e le imprese confiscate, le imprese registrate del settore sul totale delle imprese registrate, in buona sintesi, quando questo indicatore è pari a 1 ci dice che la percentuale di imprese mafiose confiscate in quel settore è in linea con la presenza del settore in quel territorio, in questo caso in tutto il paese o in diversi contesti provinciali. Se il dato è superiore a 1 significa che le aziende confiscate rappresentano una quota percentualmente molto più alta di quanto non lo sia presente quel settore in quel dato territorio. Allora per capirci, un dato che è interessante notare è che alcuni settori che vanno a mercato, quindi alcuni settori nei quali la dimensione delle relazioni economiche governate impersonalmente dal mercato, quindi vige il mercato. La presenza delle imprese mafiose è bassa, l'agricoltura è pulita, soltanto a Caltanissetta abbiamo una percentuale di imprese in valore pari a 1 delle imprese confiscate che è proporzionale alla presenza delle imprese agricole in provincia di Caltanissetta. Per tutto il resto abbiamo un dato che sta sotto l'unità, significa che il settore agricolo per capirci non è attraente per la costruzione di imprese che hanno le caratteristiche mafiose. Io dico perché poi quello è un settore nel quale ancora il fare imprese è duro, quindi l'impresa ha successo se fa i pomodori buoni, se fa il lupo buono, se fa il lupo buono, piuttosto che per altre cose. In altri settori invece i dati sono certamente più preoccupanti, oltre le nostre province, il settore dell'estrazione estrattivo agrigento è 56,6 volte, è una capacità di attrazione elevata anche perché le cave servono per poi smaltire i rifiuti, quindi fanno come si dice in economia di scopo o di varietà, con la cava ci tiro fuori i materiali ma poi ci metto anche i rifiuti, per cui faccio due attività con un unico contesto ambientale. È molto elevato anche in provincia di Palermo, 14 volte la presenza del stesso settore nell'industria, e cominciano ad essere interessanti i dati di Milano e di Lecco, dove alberghi e ristoranti sono, gli alberghi e ristoranti confiscati dalla MAEF sono 4 volte in più di quanto non sono rappresentati in quei territori, per quanto riguarda gli alberghi, 11 volte o 12 volte quanto sono in provincia di Lecco, e vale anche per attività finanziarie, questa volta come vedremo su Bologna. Qui sono i dati massimi per provincia, è una sorta di specializzazione di imprese mafiose provinciali. Vibo Valencia è la provincia che ha una presenza di industrie che estraggono materiale estrattivo, confiscata dalla mafia sul totale delle industrie, che è 200 volte maggiore il dato reale. Via via Palermo c'è un 4,6, come dire, che è campione nell'industria delle fonti di energia, Lecco lo è per gli alberghi, è la prima in Italia, e Bologna lo è per le attività finanziarie. Alberghi e ristoranti e attività finanziarie non sono l'industria delle costruzioni, e torno al discorso dei settori, perché chiedo di stare ancora nei tempi, ci siamo. Allora, i settori, quali sono i settori tipici di attrazione, abbiamo visto come si distribuiscono le imprese confiscate nei diversi settori e nei diversi territori, quindi diamo una misura di come le imprese ricombinando i dati di settore, ricombinando i dati territoriali che vi ho detto all'inizio, fanno il mostro dell'impresa mafiosa nelle diverse localizzazioni territoriali, facendo le solute di campioni territoriali. Vibo Valencia lo è per l'estrattivo, Cosenza lo è l'unica in Italia per l'agricoltura, perché l'agricoltura in genere è pulita, eccetera. Gli elementi che si mixano, che stanno dentro la scelta dell'impresa mafiosa sono più o meno questi. La redditività del settore conta e non conta, non è importante, perché molto spesso l'impresa ha una funzione obiettivo su più vari abili, non interessa quanti profitti fanno, ma interessa su quanti altri tasti può in qualche modo giocare. Sono di norma settori a bassa produttività del lavoro e ad alta intensità di lavoro, quindi c'è molta manodopera occupata, livelli tecnologici molto bassi, quindi c'è una complessità dell'agricoltura, perché è importante il livello tecnologico? Perché è vero che il mafioso è, come dire, normalmente poco colto, o meno lo era, a giornate del profilo l'imprenditore mafioso potrebbe essere un po' più diversi oggi. Ma è vero anche che l'imprenditore mafioso deve avere la capacità, se non di gestire, ma di controllare i processi aziendali. Ora non vedremo mai, probabilmente, spero, una impresa mafiosa nel settore dell'i-tech o nel settore della produzione dei microchips o dell'elettronica o delle biotecnologie, se non come quota azionaria, ma se li compra in borsa, ma non come impegno di imprenditore reale. Perché molto semplicemente la capacità cognitiva di cogliere esattamente se il manager che ci ha messo dentro lavora bene o lavora male, se l'azienda va bene o va male e sfugge in qualche modo all'imprenditore. L'imprenditore cerca settori in cui può leggere il settore, può leggere l'impresa, può leggere come funziona, può dire in qualche modo la sua. In ogni caso anche se l'affida al manager ha capacità di verificare se il manager si comporta bene piuttosto che non. Quindi settori con tecnologie basse e con entrata, come dire, a go-go, molto semplici. L'usura di costruzione è un esempio di questo tipo. Dimensione media delle imprese molto piccole, modesto grado di internazionalizzazione, perché un settore internazionalizzato ha pressioni competitive e non controllabili. Se sul mio prodotto ci stanno i francesi e gli spagnoli e i tedeschi, io non posso mandargli le bombe anche in Germania, in Francia e così via. Allora è chiaro che quanto più il settore è a mercato interno, a mercato locale, tanto più irregolabile con logiche di classe di tipo relazionale o anche con gli strumenti tipici di chi fa la governance di imprese mafiose con gli attentati e così via. Mercati che hanno come terminale diretto o indiretto la domanda pubblica, perché è quella più addomesticabile, quella sulla quale si può agire sia in fase di acquisizione della commessa, sia in fase di scaricamento di maggiori costi sul prezzo finale. Settori ad alta specificità territoriale e regolamentazione carente e così via. Allora, quali sono i settori chiave? L'abbiamo visto quali sono i settori chiave. Io direi, sto chiudendo, di ragionare su una tipologia su due livelli. Io dico che ci sono settori che sono ad alta intensità di lavoro, a basso livello tecnologico, con dimensioni medio-piccole, a mercato interno, con forte domanda pubblica e leggasi costruzione edilizia e residenziale, costruzione di opere pubbliche. Sono tipicamente storicamente, non guardiamo come sarà l'industria delle costruzioni fa 10 anni in Germania, vediamo quella che è qua di fatto in Sicilia, che non è tecnologica. Allora, questo è un settore tipicamente di interesse in cui l'impresa mafiosa entra non per riciclare, secondo me, ma perché i profitti sono buoni. Cioè l'impresa in questi settori è buona perché è altamente profittevole e c'entra sostanzialmente per questo. E in questi settori, cioè nelle costruzioni, nell'edilizia e anche nelle estazioni dei minerali, le imprese possono far valere il loro, come dire, il loro skill manageriale, cioè pressione sui concorrenti, eliminazione dei concorrenti, pressione sulla committenza, compressione dei costi del lavoro, eccetera, possono innestare quella mostruosità aziendale e farla diventare vincente nel contesto territoriale in cui queste imprese stanno. La sanità, alcune cose le mutue, altre no, apparentemente la la sanità è un settore con alte tecnologie, ma le tecnologie della sanità vengono da fuori. Chi assembla le tecnologie le fa diventare case di cura o chi assembla le tecnologie le fa diventare vendita alle case di cura è evidente che si pone sul livello tecnologico meno complesso. E' un caso che questo esce come uno dei settori di più recente e elevata attrattività per le imprese. Gli alberghi e ristoranti, che sono anche queste, come ho visto, di interesse. Io penso e chiudo che noi abbiamo alcuni settori nei quali, partiamo da un concetto che dobbiamo condividere, l'azienda è un sistema. Gli amici aziendalisti, il professor Escheri è andato via, ma c'è altri aziendalisti qua, commercialisti, come dire, di sicuro valore, che l'azienda è un sistema. Quindi cosa significa che l'azienda è un sistema? Che l'azienda ha un valore in più rispetto alla somma dei suoi asset. Quindi il valore dell'azienda è c'è un intangibile che ha la capacità dell'impresa di produrre reddito nel futuro, quello che chiamo l'avviamento. Ora, ed è quello che fa la differenza tra un valore di liquidazione dell'impresa e un valore a mercato dell'impresa quando l'impresa deve sostenere. Io sono convinto che su alcuni settori, la costruzione, le stazioni dei minerali, c'è un avviamento illegale altissimo, nel senso che queste imprese prima che i magistrati ci mettono il naso hanno profitto altissimo, hanno fondi di riserva straordinaria altissimi, è però un valore di avviamento legale nullo o basso. La domanda è, conviene mantenere queste imprese sul mercato? E' una domanda che pongo a me stesso, non ho nessuna ricetta pronta. Conviene fare gli sforzi per mantenere queste imprese sul mercato sapendo che la ricostruzione dell'intangibile di quell'impresa a valore legale è un'operazione costosissima, difficilissima e fortemente irreversibile. costo vale anche per l'industria delle cave. Vi sono alcune attività, sanità e alberghi, nei quali invece l'avviamento legale, illegale e pure alto, altrimenti non ci sarebbero i mafiosi. L'opportunità che questi anni, c'è anche, non l'ho inserito, il settore della distribuzione commerciale, che è un settore nel quale le imprese entano per finalità essenzialmente di riciclaggio, ma che hanno un valore illegale alto, quindi sanità, alberghi, ristorazione, filiera, prima filiera del turismo, l'offerto turistico per Capucci e settore della distribuzione commerciale, ma hanno un valore di avviamento legale che è medio alto ed è facilmente irrecuperabile. Cioè prendere un albergo che è in mano a mafiose e provarlo a riportare ad azienda legale che ospita turisti e certamente un'operazione più credibile, anche nei tempi e anche nelle risorse che chiede, che immaginare un'impresa che ha costruito il proprio passato su attività di estazione di cave, eccetera, eccetera, della fila tradizionale e portarla sul mercato. Quindi per questo tipo di imprese che stanno in questi settori, sanità, alberghi, ma altri che si possono approfondire con studi più dettagliati, probabilmente l'ipotesi di lavorare su un mantenimento e una sopravvivenza delle imprese per mandarle al mercato e farle continuare a vivere, questa è un'operazione che secondo me si può fare. Secondo, cosa fare delle aziende che vanno liquidate? Ma cosa fare perché l'altro elemento che poi viene messo dentro dei lavoratori occupati, dell'occupazione che va via e così via, ma prendiamo i valori di liquidazione delle imprese che vendiamo a spezzatino perché hanno un avviamento illegale alto, un avviamento legale nullo e utilizziamo le risorse per proporre ai dipendenti corsi di riqualificazione professionale per fare altre attività produttive, capisco che a Milano è una cosa, apparemmo questa è un'altra prospettiva, oppure proporre risorse finanziarie per poter avviare iniziative imprenditoriali da parte di dipendenti, cioè utilizziamo quelle risorse che acquisiamo dalla vendita comunque obbligata in liquidazione delle imprese che hanno valori di avviamento legale nullo e sono irrecuperabili, per dare vita ad opportunità di riqualificazione del personale e di opportunità di lavoro a questa volta su aziende proprie o di altre più sane. Mentre per le altre probabilmente un'attenta valutazione dei settori produttivi, un'attenta rielaborazione dei disegni manageriali potrebbe rendere assolutamente credibile un'operazione di rigenerazione e di ricostruzione al mercato. Vi ringrazio.